Marta, oggi tortillas messicana con carne aromatizzata alla cipolla Prego amore mio, prego Ma quali non la grazia? Le ho fatte io, le ho fatte io Ecco qua, Marta, fatte, sei carina Vai con la seconda La carne l'abbiamo cotta, ora la provola da voi La provola da voi? Sì Ok, mettiamoci qua, se no mi buco le mani, mi inizia a male I pomodori li vuoi? Sì E' mo, e' mo, e' mo I nachos li vuoi? Li vuoi dentro? E dai, va Non mangi una popa Eccola qua, raga, mamma mia, che bella faccia Guarda qua, guarda, ora facciamo l'assaggio Eccola qua, guardate che bella Buon appetito Buon appetito Buon appetito